women self vision ben trovate e bentrovati al nostro appuntamento in studio con me il professor stefano salvatore responsabile unità funzionale di uroginecologia dell'ospedale san raffaele di milano oggi parleremo di vescica iperattiva per non perdere i prossimi appuntamenti iscrivetevi al nostro canale professor salvatore che cos'è la vescica iperattiva la vescica iperattiva è una condizione molto comune è una sindrome formata da sintomi come il forte desiderio di dover urinare che viene definita urgenza menzionale associato meno a una elevata frequenza menzionale alla nicturia che è il desiderio di svegliarsi la notte la necessità di svegliarsi la notte esclusivamente per urinare e l'incontinenza urinaria da urgenza tutto questo quando non è presente però una sottostante patologia neurologica o un'infezione urinaria che ha sintomi peraltro molto simili quante donne ne sono affette una buona proporzione anche perché si pensa che ancora oggi molte donne non lo rivelino per motivi di imbarazzo si parla di un 15 20 per cento dopo i 40 anni possa soffrire di vescica iperattiva la prevalenza aumenta con l'aumentare dell'età e dopo la menopausa dove non c'è il supporto estrogenico questa prevalenza un picco importante quali sono le cause le cause sono diverse escluse come abbiamo detto patologie infiammatorie o neurologiche possono essere problematiche legate al muscolo la vescica è formata da un muscolo che il detrusore che a un certo punto sviluppa un'iper eccitabilità e una connessione tra cellula e cellula molto molto spiccata può essere un problema di eccessivo rilascio di quelle sostanze che fanno contrarre i muscoli nelle giunzioni neuromuscolari oppure possono essere oggi si sa problematiche legate a gli smetabolismi che sono molto presenti soprattutto con l'aumentare dell'età o anche i processi infiammatori non necessariamente infettivi che giocano un ruolo importante nello sviluppo della sintomatologia un altro aspetto sicuramente importante è quello della carenza estrogenica dove si hanno delle modificazioni non solo a livello del basso tratto genitale ma anche del basso tratto urinario la vescica riduce la capacità e aumenta la sensibilità cioè diventa più come dire sollecitabile a bassi volumi con una necessità di urinare più frequentemente come si fa la diagnosi? la diagnosi nella maggior parte dei casi è clinica con dei questionari che oggi abbiamo disponibili che sono validati in diverse lingue si può avere l'ausilio anche di strumentazioni come come l'urodinamica che vanno ad oggettivare quella che è l'anomalia di funzionamento che può essere di aumentata sensibilità piuttosto che di un'eccitabilità muscolare che determina pressione elevata all'interno della vescica la visita è importante anche perché dobbiamo escludere problematiche legate a ipoestrogenismi che come abbiamo detto sono uno dei meccanismi con cui si installa la vescica iperattiva e cosa che non ho detto in precedenza anche la presenza o meno di prolassi genitali soprattutto della parete vaginale anteriore che possono essere una causa di vescica iperattiva per stiramento delle fibro neurologiche periferiche professore per quanto riguarda i trattamenti la cura la cura in prima istanza deve essere di tipo comportamentale anche per andare a correggere alcuni adattamenti comportamentali che le donne con vescica iperattiva mettono in atto per per in qualche modo limitare la problematica chi ha vescica iperattiva tende a andare ad urinare anche molto spesso per evitare qualcosa che è poco prevedibile cioè la perdita e allora volontariamente urina intervalli molto molto brevi e questo però poi abitua la vescica ancora di più a accogliere non quantità importanti di urina al proprio interno e quindi in qualche modo alimenta ancora di più la sintomatologia la modalità comportamentale proprio quella di riallenare la vescica con una modalità che si chiama proprio bladder training in cui le pazienti con un diario menzionale cercano anzi di aumentare l'intervallo di tempo tra una menzione e l'altra registrandole quindi con una sorta di biofeedback visivo quello che il miglioramento che via via riescono ad acquisire c'è poi tutta una serie di metodologie di tipo rieducativo che vanno anche dagli esercizi chinesi terapici anche come gli esercizi di kegel piuttosto che all'elettrostimolazione. Oggi l'estrogenoterapia in una parte di pazienti seppur ancora abbastanza dibattuto può servire a migliorare la sintomatologia e può essere utilizzato come complemento di un trattamento più composito. Ci sono trattamenti che stanno emergendo con energy based devices come il laser soprattutto nella donna in menopausa oppure c'è la terapia farmacologica che ha fatto passi da gigante rispetto alle prime molecole che si utilizzavano in passato e che vanno ad agire proprio su quella che è il muscolo la giunzione neuromuscolare tra vescica e sistema parasimpatico che è la parte che fa attivare la vescica. I farmaci di oggi che rientrano nella classe degli antimuscarinici soprattutto sono farmaci molto selettivi per la vescica per cui gli effetti collaterali che in passato i vecchi farmaci in qualche modo pagavano si sono minimizzati in maniera molto significativa e una terapia cronica che deve essere presa giornalmente quando si prescrive una terapia con antimuscarinici è importante fare un controllo a tre mesi per verificare quella che l'efficacia a tre mesi grossomodo si raggiunge il massimo dell'efficacia del farmaco e poi c'è un'altra classe farmacologica che sono i beta tremimetici che sono piuttosto recenti che hanno come dire come bersaglio quello di aumentare la capacità della vescica di accogliere volumi cioè di farla distendere un po' di più. Questi farmaci hanno un'efficacia comprovata anch'essa superiore al placebo e in alcuni paesi sono presenti composti antimuscarinico e metatremimetico che però nel nostro paese per motivi normativi non possono essere messi sul mercato. Altro aspetto di tipo farmacologico è quello di un'iniezione intravescicale di tossina botulinica che ha lo scopo di ridurre quella che è l'iperaccitabilità muscolare. Oggi sappiamo che ha un effetto anche su quella che è l'afferenza cioè la trasmissione del segnale di urgenza della vescica ai centri encefalici è una modalità che si può fare in dei surgery che a volte richiede di essere ripetuta a distanza di sei mesi e ha un'ottima efficacia soprattutto in quelle che si chiamano vesciche iperattive refrattarie cioè dove non c'è una risposta alle prime linee di trattamento che abbiamo detto precedentemente. Quando si deve ricorrere alla chirurgia? La chirurgia in realtà in passato andava a considerare una sostituzione della vescica con un'ansia intestinale leale. Oggi come oggi non si fa quasi più. C'è una chirurgia di tipo mini invasiva che invece la neuromodulazione. La neuromodulazione sfrutta la capacità del nostro sistema nervoso che ha una propria plasticità cioè riesce a modificare come funziona la trasmissione di un impulso attraverso correnti elettriche e proprio attraverso il posizionamento di un trasduttore che può essere fatto a livello del nervo tibiale posteriore o ancora più come dire selettivo a livello delle radici sacrali S2, S3, S4 dove nasce l'innervazione per la vescica si riesce ad avere degli ottimi risultati su quella che è la risoluzione della sintomatologia. La neuromodulazione sacrale ha acquisito negli anni una mini invasività sempre maggiore ha un grosso vantaggio a mio avviso che è quello di avere come un test che si può fare in un ambulatorio chirurgico dove questo trasduttore viene impiantato e connesso con un sistema di regolazione esterno e la paziente per un paio di settimane come dire verifica se c'è una diminuzione della sintomatologia e nel caso affermativo si passa poi all'impianto definitivo con l'impianto deve essere eseguito in sala operatoria anche per motivi di sterilità. Grazie professor Salvatore, grazie a tutti per essere stati con noi. Women's Self Vision torna presto con un nuovo appuntamento. Per non perdere i prossimi appuntamenti iscrivetevi al nostro canale. Grazie a tutti per essere stati con noi.